Gli strumenti ci sono, tocca all'amministrazione e alla polizia locale utilizzarli al meglio. E' questo in estrema sintesi il pensiero dell'assessore regionale alla sicurezza Riccardo Decorato sull'escalation di furti che ha investito la zona di San Pietro in Verzola a Pavia nell'ultimo periodo. Droni e telecamere in primis, tecnologie che tutti i comuni possono utilizzare per porre un freno ai reati. Noi come Regione Lombardia abbiamo dato ai comuni una serie di strumentazioni che sono a salvaguardia della sicurezza dei quartieri e sono droni. Con i droni si può controllare tutto, cioè si può controllare anche chi attraversa un marciapiede, chi entra in casa, chi entra magari scavalcando finestre, si può controllare tutto. E quindi le polizie locali hanno avuto a disposizione queste strumentazioni che ogni anno noi mettiamo nelle nostre disponibilità per finanziare l'acquisto di questi strumenti. Poi le telecamere, telecamere di ogni tipo, telecamere che servono a controllare esattamente cosa accade nei quartieri, nelle strade. Ma le strumentazioni fornite da Regione Lombardia alla Polizia Locale di Pavia includono anche le bodycam. Abbiamo messo a disposizione anche dei nostri agenti di Polizia Locale le bodycam, che sono telecamere mobili che servono agli agenti per filmare tutto quello che accade intorno a loro. E poi stiamo finanziando il controllo di vicinato. Controllo di vicinato vuol dire che la sicurezza bisogna che si cominci anche dai residenti, i quali in associazione possono di sera e di notte pattugliare le strade, le vie con il controllo di vicinato. Ma in quest'ultimo caso i residenti di San Pietro si sono già organizzati da soli con la nuova pagina Facebook L24 San Pietro e con un gruppo WhatsApp per segnalare tutte le situazioni di potenziale pericolo nel quartiere. Insomma per l'assessore decorato ciò che poteva essere fatto a livello di Regione Lombardia è già stato messo in campo alla domanda se siano ipotizzabili risorse economiche extra per i comuni. Ha risposto così. Ma noi abbiamo già messo a disposizione delle Polizie Locali di Pavia e di tutta la Regione Lombardia fondi proprio per dare strumenti, ho citato solo questi, ma sono diversi gli strumenti che noi abbiamo messo a disposizione delle Polizie Locali per la sicurezza dei nostri cittadini lombardi. E' evidente che poi sono i comuni, i sindaci, i comandanti e le Polizie Locali che scelgono quali sono le strumentazioni più adatte per il controllo del territorio nei rispettivi comuni.